Una speciale intervista per una persona straordinaria che appartiene alla Torneo Mecce Talent da ben tre edizioni, qui insieme a me il dottor Antonio Aloisio. Buonasera dottore. Grazie Ciccio per la splendida persona, altrettanto ricambia. Un'intervista speciale perché il dottor Aloisio entra a far parte della famiglia, dal cuore del Torneo Mecce Talent offrendo il suo marchio aziendale diventando sponsor ufficiale rappresentando la sua azienda. Sì, abbiamo parlato con te prima, abbiamo cercato di trovare un omaggio o qualcosa per i migliori in campo in modo da offrirgli un servizio di fisioterapia, da dove faccio il fisioterapista, per le tue squadre e per i tuoi campioni. Ti spieghi un po' il suo mestiere e perché ha l'intenzione di aiutare l'organizzazione per andare avanti, anche perché il suo nome è molto importante su quanto riguarda la piazza del calcio. Quindi mettendo il suo nome su un torneo amatoriale dà molte più garanzie al torneo stesso. Diciamo che io lavoro come fisioterapista da circa sette anni, sono entrato nel mondo del pallone e poi dopo ho conosciuto Ciccio Caruso tramite amici. Ho fatto tre anni di questo campionato bello, un ambiente familiare e quindi mi sono proposto con Ciccio per fare questa iniziativa. Quindi ci spieghi un po' meglio, il migliore in campo riceverà? Riceverà una prestazione di fisioterapia, una teca a romaggio nel mio studio. Cioè quindi il giocatore si deve infortunare per andare nel suo studio? Non gli auguro niente a nessuno, però purtroppo nello sport capita sempre, anche se non gliela butti a nessuno. No, 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 assolutamente no, era un modo per barcare una freccia per quanto riguarda i giocatori che aderiscono al torneo. Abbiamo giocatori di altissimo livello calcistico, quindi uno sponsor del genere aiuta il giocatore a rendersi meglio sia nel torneo ma nella sua carriera calcistica. Negli ultimi anni diciamo che nello sport la fisioterapia è importantissima, quindi non che ben venga l'infortunio ma che ben venga la terapia per ristabilire l'infortunio. Quindi dove dovremmo mandare il giocatore che riceverà il premio? Il premio c'è il mio numero telefonico, io darò tutte le indicazioni dove venire e quando venire. Ringraziamo il dottor Antonio Loisio che ha messo un marchio importantissimo al match talent, grazie come amico personalmente perché Antonio Loisio è un gran amico. E te la coloro che quest'oggi non riesce a sfruttare la vittoria al meglio contro un'ottima squadra? Male, male, è andata male dopo. Il primo tempo è stato bel equilibrato, 1-0 per l'ora e poi dopo ci siamo lasciati un po' andare. Un grande, il dottor Antonio Loisio insieme a noi è tutto sul sito internet www.matchtalent.it